buonasera arrivati a schiuma 5 la nostra direzione era da scavo a crete dove andare a crete le cose sono stati bruciato ma che sono i lupini lupini bruciati o taralli è cardamomo c'è anche il commento tecnico che dice che non non è bruciato ma è quasi mezzo tutto effettivamente si intensifica è puzza di creta si si intensifica? si intensificando? eh si rimasso vabbè se si appiccio si appiccio è fatto prima andiamo a crete vabbè andiamo a crete ah non vuoi andare a dire stagno? ah sta lo scalo prima d'Algeria dove lo fa? ah è giusto eh devi andare a prendere l'aereo è giustamente l'aeroporto guardino un po' così eh eh lo mangio un attimo qua tu sei indaffarato? eh sì passami il mouse vediamo un po' cosa riesco a fare guarda come potevo sfruttare la sedia perché non ci ho pensato più allora eccoci qua parliamo con Sofia Sofia giusta giusta domanda creda non è adagino ah è stata una grande colonia è stata immediata cosa facciamo adesso? non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ah vedete la possiamo scegliere non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è è andato grande non c'è però credi non c'è 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 è non c'è non c'è Gli attivoli deve essere il Tramonto Il colore era rossa e quindi era il Tramonto, tu non hai visto che si aveva dormito Quello di prima Allora, quindi questo era il Tramonto, la colonia è maggiore anche quella della luna, necessitava il sole di mezzo di crescente sopra la luna piena Ah, noi siamo alla colonia? Si, sole di mezzo di crescente sopra la luna piena Niente, solo a mezzo di sopra semplicemente Niente, solo a mezzo di semplicemente Niente, solo a mezzo di semplicemente Allora Sopra la luna crescente Alla scurità Vai Mandrino Vai, mandrino Ah, e tu è giusto però che ho ancora più di una pietra Il piolo Il piolo Non penso che funziona Non funziona Il piolo Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Tutto Non funziona ma poi c'è un baccariettano nel posto dove vi servio quello già sa bene c'è una mappa vai adesso il sentiero c'è il sentiero non ti devi arrambicare non c'è un baccariettano non c'è un baccariettano dove è sale macerie non c'è un baccariettano è una mappa non c'è un baccariettano non posso prendere non posso prendere non posso prendere macerie, mettono una cosa solo con le macerie, è strano no? Ah, un tipo di palazzo di minori, eh sì, deve essere del 1600, secondo l'Urabbsale erano solo dei cugini degli avvantiani, nascosto tra queste rocchie, ma non qui, c'è un ponte, andiamo a provare, stop, buono, lo zampirone, oh ma è grande qua, eh, vai verso, eh, è un appena costruito Imp 후�ITCH flo. Ah, ah, uno strumento per fotografia, è super zumo. Adesso Teodolite. Io devo misurare gli angoli stabili delle linee rette. Vai verso Teodolite. Guarda la raccolta. Non scende. Non scende. Non scende là. Non scende. o non vuole scendere, non vuole andare secondo me, ah da giù sai come ne è che si può tutta passi stai facendo sfuggire ma è solo che non ti entra qua, però quella è assai vai verso l'entrata come prima, solo che c'è uno squatch, vai verso la grande crepa è qui allora che va non credo che questo funziona è un pile di rubble ma c'è l'uomo non si parla di batteria si, devo andare a vedere io non lo so ma è quello che hai usato per le lampade ah si, sta nella stanza ma a questa stanza sicuramente c'è qualcosa da fare uno sgretolato tocca bello usa il pilo o quella cosa quella punta ah è qui, sì il pezzettino e anche eh pesce di ambra sull'acqua questa punta davesse la collana di Sofì e sapere che bi è così che puoi trovare la ricacola ah e quindi in ogni stanza ti devi mettere a cercare può darsi, e allora Sofia deve uscire allora che la fa sì che casino deve andarsene, non può stare vicino eh scusi, sta pure lei appresso a me dovuta sempre lasciare vabbè credo quando si creerà la situazione penso va grande penso vabbè comunque si deve tenere in mente questa cosa dopo ad assieme non serve proprio a un cazzo mi scogliere? vai vai finisce muro sgretolato grande crepa e non c'è un cazzo sicuramente è qualcosa che si farà dopo qua però c'erano dei sassi che aveva detto che voleva vedere l'abbiamo in questa altra entrata oh ci sono i vasi eh vabbè a me c'è qualche vasso tutto distrutto vabbè tutto ciò che stanno guardando è l'aria aria niente da dentro tranne la polpa niente da dentro tranne la polpa non posso prendere l'aria non penso che questo funziona non posso muovere non posso muovere non posso muovere non c'è niente non c'è niente non ci vuole, l'acqua non mi vuole, l'acqua di una palla si roma di un minore tutto esatto è interessante tutti i vuoti ma è un rilevatore di ricalcomo mi devo dire fammi vedere la come fa a farmi vedere la collana cosa devi fare esami, esami la soffi è un po' di rileva Eh ma c'è tanta roba da controllare qua. Il problema è che sono tutte tutte. Qua ci sono delle immagini. Ma non si è dolato. Ma non si è dolato. Ma non si è dolato. Se fai sempre bene. Ma non si è dolato. Ma non si è dolato. Ma non si è dolato. Non si è dolato. è un po' più sharp shipwreck non credo che questo funziona non sembra aperto è un po' di rubble abbiamo fatto l'orario e abbiamo fatto meno necrona no? comunque questo è difficile pure necrona allora se entri e fai la spesa non ti dicono se resti là a mangiare resti là a mangiare si si non ne pensi non è un po' e adesso lascia non è un po' ciò che si pure quando sono ho presentato su ovunque vui switch off come ho trovato quest'altra stanza vai verso il murale andare su simlabs switch off basta togliere il microfono così fai adesso... murale? no togli un attimo il microfono eh no è stato il murale un po' di più Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. . . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. . a tutti. si riferisci. a tutti. a tutti. a tutti. . . . . a tutti. . 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 Udonvi dà .. . . significa il murale. Dobbiamo capire cosa significa il murale. Dov'è sta? Guarda che questo è stato sotto. Oh poveri. Sto sotto. La testa di toro, le corne e la cuore, su quel cerchio. Ah ecco, ci sono due teste di toro, quelle che abbiamo trovato. Noi dobbiamo andare qua, quindi dobbiamo guardare. C'è una testa di toro, le corna e la cuore. Ok, ho capito. La testa, le corna. Te ho detto che ce ne sta almeno un'altra. Allora deve stare... Questa è la testa. Questo... Coda. Testa... Coda. Aspetta un attimo. Torna dentro. Che stai facendo? Torna qua. Testa, coda. Questa è la coda. Testa. Coda, corna. Ok? Ok? Sì. Questa è la coda. Testa. Le corna devono stare qua. Converge qui. 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 No. Deve stare qui a destra. Perché le corna quelle là devono stare al centro. Vedi in fondo qua a destra. Testa. Coda. Vedi in fondo a destra. Ci saranno le corna da qualche parte qua. E più avanti. Saranno tutta a destra qua. Sopra questo. Secondo. No. Ah, eccola qua. Le corna. Gli alti corna. Gli alti corna. Gli alti corna. Testa, coda, corna. E... Qua. Secondo me no. Il cerchio sta qui. Qua. No. Qua. E qui. E qui. Qui eh. Un nuovo scritto all'altro? Lei. Strar. Sì. Ma non è come detendente a queste albume eh. Pergi un nuovo. Io non lo move. Io non lo move. Io non lo move. Ce n'è. It doesn't seem to open. Non credo che questo funziona, non credo che funziona, non credo che funziona, non credo che funziona. Ah, è scipoli. Sbagliato. Sopra qua ci sono delle macerie di piedi, o sopra sta cosa che cosa sia entrata adesso? Sotto la macerie, sopra, è un po' di niente. Sotto. 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 Wow. It's a pile of rubble. Quindi per i piedi erano ben allineate. Sotto. Testo. Deso. Desi. Desi. Sopra. Grazie a tutti 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 Sofia Grazie a tutti Ok Andiamo a tornare là e sicuramente punta verso qua Ma vediamo un'occhiata e facciamo vedere lui Ah dobbiamo qua, o da qua o da qua, vediamo la stessa cosa, dobbiamo convergere verso qua Ci sono le corde Qui in mezzo Dobbiamo vedere oltre queste due cose Vai vicino alla piazza Vai vicino alla piazza E parla con Sofia E parla con Sofia E parla con Sofia vicino Devi parlare quando vuoi darvi salvo E chiedi dove stare sotto e là Ecco 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 E cosa facciamo adesso? Non è sicuro Però Però dice che bisogna vedere il significato del murale Abbiamo capito Non è sicuro E' un'occhiata E' lì E' qua E' qui E' qui Ma qual'è la porta che stiamo guardando? Li Penso proprio Questa è qui che dobbiamo andare E' chiaramente quello E' qui E' qui Vi stai vedendo in mezzo da questa parte Quindi la porta che stiamo guardando Ho questo qui Questo Ho questo E' che c'era anche un corso davanti Un piccolo verticale Che è questo qua Questo qua E' quindi allora è questo E' qua Ma che ci stai? Non c'è il muraggio davanti Parla con Sofia Sofia Cosa? Dio Non c'è il muraggio No ma quello lo prende in gira Questa cosa Non c'è il piatto sulle macette Non penso che funzionerà Sono knocking Niente in nessuno Non c'è nulla, non c'è nulla Ah, è qua dietro Se non è qua Mettilo qua, lo zambiluno, se no è perfetto Non ne hai messo lo zambiluno Sì, non si due per già piccoli però È ben utile, poi dobbiamo uscire di nuovo Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla All they're holding now is here 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 questa cosa questo sta in mezzo questo sta in mezzo si trova la testa questa è la testa la testa questa è la coda queste sono le corna testa e coda vai dire la ritorna già visto testa coda corna no ce ne corna sono questo questo si è infatti la testa coda si corna qua però che devi fare il triangolo così però devi vedere in prospettiva che prospettiva è così solo che più o meno deve stare qua comunque tutta questa parte ma deve stare non può stare allo vede pure però non so quale ma so che la vita di qua noi dobbiamo andare più a destra quindi è vero c'è un'indicazione c'è una scala c'è una scala ricordi c'è una scala la porta e poi c'è un'altra porta qua vedo il corno sinistro sì ma devi andare la cd va beh devi andare la testa vai the way the sport deve dire ved el corno testa perché perché stavo facendo così e in basso al corno sistro per avere la togliettura, vedo il corno destro ah che con quell'altro invece devi vedere il corno destro se lo deve fare lui come nel film se devo decidere bene dove devo andare a scadere preciso se no se sbaglio anche di poco è una fatica se devi togliere un kadà il corno adesso lo devo vedere con questo vai diamo, deve essere preciso devo fare cosa? e poi incrocia beh cos'è questa? la x è punto dove scava la x è punto dove scava va 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 vedo vedo no No, non si è portata a pezzo. C'è un disco di pietra. Ha un bucho in mezzo e piccole lune incise. Una di quelle pietre della luna di Luscriss e Platone. No, ma ne abbiamo due. Allora, vai a fare la sovrapposizione ma ho all'entrata. Ma qualcosa lo devi portare. Si, portare. No, non è che cosa. Non, non è che cosa. Non ci vuole, non ci vuole. sono ancora più vicino? ma l'hai messo carico? guarda, quello che bisogna scegliere stavo avvicinandoci ok, stanno dentro attento la stronza non sembra scegliere non sembra scegliere credo sia la luna in quello in mezzo si quello in mezzo quello in mezzo si solo a mezzo di eh ma se luna no luna calante luna piena se no è una crescente è buio quindi essere luna piena si esatto ma c'è ancora non c'è qualcosa ma ancora non c'era qualcosa ma il di ha solo il mezzo di crescente sopra la luna luna piena, sì. Sulla mezza di sopra? Già fatto, luna piena. Luna crescente. Ma è giusto. Bandarino, eh. Luna crescente, ha detto. È luna crescente da quella di prima. Non è la luna crescente, è la luna piena. A sole di mezzo di, crescente, sopra la luna piena. Mezzo di crescente. Mezzo di crescente, sopra la luna piena. È vero. Mezzo di... Ah, crescente. ... 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 Non è stato tanto male, sole di mezzodì crescente, non ci sta mezzodì crescente, ci sta mezzodì, o nascente, sopra la luna piena, è stato tutto male. Non esiste mezzodì crescendo, c'è mezzodì, luna piena è questa, ci sta luna crescente. Altivorvi I still didn't know anything I still didn't know anything I still didn't know anything I still didn't know something And there's someone who needs to be I still didn't know anything se la mezza ti lascia così, sposta quella scena, l'aspecto è crescente, però non l'abbiamo detto, mezza di crescente, metti mezzo di sopra, ora, l'ultima cosa dove vado a mancare, solo a mezza di su, poi mezzo, una piena, spostare in basso, no, che cosa? spostare in basso, ma spostare anche tu, vai andre chi? andre non lo sapevo dire, ma stavano a? andiamo dopo? assi 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 continuiamo a modo ma allora buona cena